Le ambizioni di Gioricci e dei suoi soci sono note a tutti. Il presidente del Cervinara, dopo aver detto addio ad Umberto Varriale, si è subito messo sulle tracce del sostituto. Nel mirino del massimo dirigente Biancazzurro c'è Mohamed Mansur, attaccante classe 95, vecchio pallino del padron Caudino. Il calciatore è nato a Villaricca, dopo l'esperienza a Gragnani in Serie D lo scorso anno, dove ha messo a segno sei reti, è passato tra le file della Fragolese, formazione militante nel raggruppamento A di eccellenza. Mansur era entrato la prima volta nel mirino del padron Cervinarese tre anni fa, quando sulla panchina del Biancazzurri sedeva Pasquale Ferraro. Per lui, nel torneo 2016-2017, 17 gol con la maglia del Faiano in eccellenza, Mansur precedentemente ha giocato con Francavilla, Turris e Vichequenze. Nel frattempo, Befi e compagni saranno impegnati nel match contro il San Vito Positano, un'altra gara importante che potrà far capire il reale valore di questo Cervinara.